Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi Io sono Blue87 e oggi siamo sulla beta di Black Ops 3 Io non ho mai giocato a un Call of Duty a livello competitivo Il mio ultimo Call of Duty è stato Call of Duty 3 Quindi sono completamente... è strano da questi titoli Però mi è arrivato un codice della beta e ho detto Perché no? Scarichiamola e proviamola insieme Questa è la mia prima partita su Black Ops 3 Ho visto questa classe con l'arco e mi ispirava tanto Anche perché sono reduce da una carriera con Far Cry Dove l'arco per me è stata l'arma principale Quindi adesso cerchiamo una partita che è la mia prima partita Team match, domination, tutto in inglese logicamente Potevano farlo un po' in italiano Però noi facciamo team deadmatch perché a me piace ammazzare la gente Via Vediamo un po' com'è Sembra molto Assassin's Creed Tutti quei cappucci Noi che siamo i Black Ops, no noi siamo gli altri Siamo i CDP Delle cazzo di puttane Perfetto, io voglio usare l'arco Come eravamo rimasti per farla? No, perché c'ho il fucile? Io volevo l'arco Vabbè via, non fa niente, io volevo l'arco però Cammina solo, io non sto premendo niente Ok, oh, fai giocare a me per favore Ma io esco dalla partita Sì Non so perché non mi faceva giocare, mi faceva giocare agli altri, non a me Quindi cerchiamo una nuova partita Sempre deadmatch E siamo ancora delle cazzo di puttane E cominciamo subito Ma so io finalmente? A me volevo l'arco però So io, no, che gioco? Fai giocare a me, stavolta? Sì, sono io Come si corre? Ok, dove si corre? Molto Far Cry, ok So come si corre, mi sento un pro Qui si abbassa, quindi adesso sono molto simili a quelli di Far Cry Dove sono gli stronzi? No, non mi ammazzare, puttana di merda Vaffanculo, tua mamma è una troia Io non so per niente capace di giocare questi giochi Tu sei con me o contro di me, stronzo? Come faccio a vedere? No, pensavo che era con me Ma non c'è tipo un simbolo rosso che mi dice con me contro di me No, io chiunque vedo sparo, ho capito, dai Chiunque io vedo io ammazzo Non me ne frega più niente Pensavo fosse con me quello Guarda il mio corpo morto C'è il mio corpo morto a terra Guardalo, lezzo Lezzo, prima kill Quello vola Oh, pure io voglio volare Come si vola? Lezzo, seee Puttana maiala questo mi ha ammazzato da dietro Ma voi vola, perché io non volo? Pure io voglio volare Ah, ecco Premo due volte volo Bellissimo Sono Superman Lezzo di merda Guardalo, guardalo Ma come si co... Ok Ma vaffanculo Ma 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 Mi ha fatto al trappolozzo Mi ha fatto sto stronzo Andiamo avanti Eh ma non è possibile che sono così scarso però io Dai, dai Ah, ho fatto due kill Dovrei già ritenermi fortunato di averle fatte Io salgo per di qua Oh ma l'ho preso in testa I believe I can fly Mi sono fatto malissimo E qua passo sotto tipo Yeah Posto tattico No, ma perché mi ammazzano? Ma quello è un camper Sta là dietro Guarda quante puttana Eh ma non è possibile Che non riesca ad ammazzare nessuno Ah così si fa tipo la scivolata Cosa figa Guarda la puttana Muori Lezza Camperosa Guardala Ma è Anna Lezzo Ma tipo sto Sto piede Ok Oh Ciuccia micca No 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 Sono caduto Questi qua sono dei promi Non le faccio ste cose Perché io non le faccio queste cose che ammazzo la gente subito e la gente ammazzendo a me che ne becco sempre due insieme Finito abbiamo perso Vaffanculo Facciamo un'altra partita perché quella di prima mi ha deluso Ma possibile che siamo sempre delle cazzo di puttane? Sì sì va bene questo Non mi frega a me tanto non le so le differenze Non so le differenze fra le armi Premo X a caso tanto che mi frega Poi io volevo l'arco L'ho avuto per un attimo l'arco Voi me l'avete tolto Siete delle persone abbastanza cattive Ok vai vai Ma questa è una mappa di prima uguale Sì sì è una mappa di prima Allora Piano piano Buono buono Andiamocene di qua Guarda il lezzo là in fondo camperoso Che è che mi sparo? Da dove tra l'altro? Vado per qua sotto piano piano l'MLM Vado a fare gli agguati alle genti Vaffanculo Riuscirò a fare qualcosa di recente su questo gioco? Secondo me no Guarda quello Muori Ho ammazzato un uomo Signora c'è un uomo per lei Cioè Un uomo Lezzo 100 punti Sono un Avengers Voglio essere Iron Man Ah lezzo Lezzo Schiatta in corpo No No Avevo fatto una bestazione Due di fila non avevo uccisi Guarda quello Guarda quello Guarda cos'è quel coso? Cos'è? Topogigio Esploso Perché esplode la roba? No Mi ha ammazzato Mi ha ammazzato i due quello Ma vaffanculo va Ma che cosa Ho disintegrato Come si fanno queste cose Tipo disintegra la gente Elettrifica la gente Non le so fasse Così a stento riesco a sparare Ma guarda Non è giusto Io non le faccio Ste cose fighe io Ma come si lanciano le granate Tipo così Madonna se lo prendevo Facevo una festa Allora devo battere Il record di 4-14 Dai No Ma da dove? Il lezzo volante Assist Non so come mi hanno dato l'assist Ma dai Ma l'ho sparato in faccia Vaffanculo Non ci sto giocando Ma perché ci sto giocando? Ma perché mi riescono sempre ad uccidere E non riesco ad ammazzare nessuno? Che riflessi ci hanno questi? Cosa mi ha dato? 3 trofei mi ha dato Revenge Come si ricarica l'arma? Abbiamo perso Yeah Abbiamo perso anche stavolta Final kill cam Ah la kill cam finale Nel piede Io pure che li spari in testa Non riesco ad ammazzarli Questo pa nel piede vince 5-15 La stessa cosa sostanzialmente E 3 assist però Da calcolare i 3 assist Sono Un pro Una merda Ok Abbiamo fatto anche una seconda partita Abbiamo dimostrato Quello che valiamo davvero Su questo titolo Il quale non riuscirò mai A giocare appieno Allenerò Per diventare più forte E farò sicuramente Altri video sulla beta di Black Ops 3 Per il momento Io vi saluto Ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi Ciao